Signora, complimenti, è bravissima, lei è stata veramente, veramente brava. Venza, operatore 6, qual è l'emergenza? Senta, io c'ho una persona al telefono che passa per la mia nipote e invece io la conosco che non è mia nipote, vale l'oro che vada a prelevare i soldi. Ce l'ha ancora al telefono? Sì, sì, sì Ok, se la tenga al telefono Ok, ok Quanti soldi le ha chiesto? 15 15 mila euro? Sì, sì Ok, e più l'oro? Sì, sì Ok, resti in linea, non li agganci Sì, sì Guarda che l'oro l'ho preso tutto, adesso te l'ho preso E poi te lo dico quanto pesa Anche il brillante devo mettere dentro Ma tu quando puoi venire allora? Ma vieni a prenderlo tu, è però Pronto? Signora, complimenti, è bravissima Allora, lei è stata veramente, veramente brava Allora, questa volta li prendiamo, non ci preoccupo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti